La dottoressa Caterina Origlia, medico-chirurgo, specialista in medicina interna, omeopata, fitoterapeuta e medico ayurvedico. Ci presenterà la relazione, esperienza clinica e approccio multifattoriale. Grazie. Lasciamo accesso il cellulare, c'è della musica. Buongiorno, sposto un attimo la radio. Bene ritrovati con alcuni di voi. Io sono un medico che si occupa di ricerca, sono una libera ricercatrice, ho attivato in più città d'Italia degli ambulatori di medicina interna integrata, mi occupo di formazione nell'ambito della medicina interna integrata. Nell'ambulatorio, nel proprio studio, noi vediamo un paziente che non è soltanto una collezione di esami, è qualcosa di più. Che non è soltanto un corpo, ma è anche emozioni, è anche mente, è anche altro. E nella mia formazione, inserendo anche lo studio delle medicine tradizionali, ho anche acquisito un dato, che poi è un dato comprovato anche dall'OMS. Il concetto di salute è ben inoltre l'assenza della malattia. E quindi molte volte ci troviamo sicuramente a dei quadri clinici che possiamo definire già patologici, ma altre volte abbiamo dei segni o dei sintomi sfumati che ovviamente ci tocca inquadrare e osserviamo sempre più delle nuove prospettive, nei nuovi complessi sindromici. Quindi la problematica da punto di vista clinico è quello di entrare più in sintonia con i tempi. Sicuramente la fisiopatologia si è modificata. Quindi sicuramente non soltanto l'inquinamento, ma anche i cambiamenti proprio del nostro asse terrestre. Anche ovviamente i cambiamenti evolutivi, culturali, emozionali, stile di vita, tutto ci pone a delle nuove problematiche e a dover dare delle risposte. Il paziente molte volte sta male, ma in realtà non sempre riusciamo a inserirlo in un quadro patologico. Però sta male, ci chiede qualcosa di più. Lo studio delle medicine tradizionali, per esempio, ci dice che esistono diversi livelli di patogenesi. Ci sono dei livelli molto profondi di cui a volte nella media del livello di coscienza non siamo consapevoli. Tant'è vero che le medicine tradizionali sono andate alla ricerca di altri criteri di valutazione vibrazionali. Il polso. Della medicina tradizionale cinese, della medicina tradizionale ayurvedica, io sono anche un medico ayurvedico, studiato anche medicina cinese, ma anche nella nostra antica medicina tradizionale mediterranea. Gli etruschi sentivano il polso, le vibrazioni. Esistono anche delle apparecchiature utilizzate soprattutto in Russia che registrano le vibrazioni del polso e formulano una valutazione diagnostica. Esistono nuovi tipi di terapia in altre nazioni, adesso man mano sono anche arrivate da noi, per esempio una laser terapia endovena per il trattamento di patologia ipertensiva, per ottimizzare la malattia endoteliale, il diabete mellito, quindi vibrazioni onde, quindi campo della biofisica, che hanno degli effetti biochimici, farmacologici già studiati. Esistono altre applicazioni, per citarne alcune, perché ovviamente il tempo è molto contenuto, per esempio la metodica di Timotis, che è un'audio psicofonologia che utilizza vibrazioni sonore anche non percepibili. Quindi, come io ho inserito, una musica, vi dirò alla fine di che frequenza, perché c'è un po' di stanchezza. Siamo oltre la metà mattinata, quindi abbiamo modo un po' di riequilibrarci, anziché fare una pausa, un break. Quindi queste sono tutte nuove informazioni. La possibilità oggi, come oggi, anche di viaggiare su internet, di incontrarsi e di confrontarsi anche con altre realtà, anche di luoghi un po' più isolati nel tempo passato, paesi scandinavi, Germania, soprattutto la zona orientale, la Russia, ci dice che qualcosa si muove. Quindi in realtà biofisica e biochimica sono già un tutt'uno. Dobbiamo soltanto rendercene conto, attivare la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Quindi il primo problema, il primo step per il medico è comprendere come possiamo aiutare il paziente, se realmente siamo già nell'aspetto patologico o se anche se c'è apparente benessere, il paziente può venire anche soltanto per una valutazione preventiva, se invece non c'è già una condizione di squilibrio, magari a dei livelli non comunemente, non ancora comunemente diagnosticabili. E questo è il primo punto che si può nel clinico. Un altro punto che si può nel clinico è comprendere cosa sta accadendo realmente a livello cellulare. Io posso eseguire dei dosaggi ematici, posso eseguire dei dosaggi nelle urine, posso isolare delle cellule, allontanarle dal corpo. Cosa sta accadendo in realtà nell'organismo? Posso dosare una calcemia, un calcio ionizzato, ma cosa sta accadendo realmente nella cellula e nelle cellule? E quindi nel tempo man mano ci sono venuti incontro nuovi possibili, ovviamente, accertamenti diagnostici. Il mineralogramma, per esempio, è un'indagine che ci permette lo studio del circuito metabolico del minerale, a livello anche cellulare. Quindi è chiedersi realmente, è quanto può essere adeguato formarsi soltanto su un valore ematico o dell'esame urine. La convenzione, la nostra convenzione, cioè dà una tranquillità nel confermarci che un valore nel sangue e nelle urine può essere incasellato su un binario piuttosto che un altro. Ma ci sono dei casi, lo sperimentiamo tutti, nella nostra attività, in cui anche se questi esami sono nella norma, il paziente continua a star male, a malessere. Il paziente comincia a fare le varie peregrinazioni. Dalle mie parti si dice, si fanno le varie chiese. Quindi il paziente a un certo punto si rende anche autonomo, purtroppo, spesso, perché inizia a affidarsi a nozioni, a informazioni, che può con molta facilità, ovviamente, individuare e quindi acquisire, non spesso, molte volte, purtroppo, non corrette. Quindi ci chiede qualcosa di più. Chi lavora come medico, come terapeuta, oggi come oggi va alla ricerca di altro, di qualcosa di più. Nel viaggiare anche nel tempo. Ancora, altro punto che ci si pone, dal punto di vista clinico, e me lo sono posta, è il senso dell'orchestra. Noi siamo una sinfonia. Qualche volta nella sinfonia c'è uno strumento che non va, o più strumenti che non vanno. Mi piace molto la musica. Quando posso anche mi dedico alla musica. Bene. Nella sinfonia distorta c'è qualcosa che non va. Questo vuol dire che noi siamo un tutt'uno. Ce l'hanno tramandato anche le medicine più antiche, no? Anche la stessa medicina ipocratica, dalla quale comunque noi discendiamo. In questo tutt'uno il particolare deve essere sempre ricollocato nel campo unificato. Noi siamo un campo unificato. L'universo è un campo unificato. È un concetto della fisica. Ma il campo unificato è anche un concetto sia delle medicine tradizionali e sia il campo unificato è un concetto che noi viviamo tutti i giorni. Quindi l'altro aspetto è ricollocare nell'insieme, nel tutt'uno. Non con effetto sommatorio, ma con un approccio di integrazione. Ancora, altro quesito che ci si pone dal punto di vista clinico è la biodisponibilità. Tutto quello che nel nostro ciclo, perché noi siamo ciclici, la nostra vita è ciclica, le onde possono essere rappresentate anche sotto forma di cicli, noi siamo in condizioni di equilibrio un complesso armonico, quindi una sinfonia di onde armoniche e quindi in questo ciclo, ovviamente, in cui noi ci immettiamo, ci sono due aspetti fondamentali agli estremi. I rifornimenti, quindi nuova energia, nuova materia, nuove informazioni e c'è all'altro estremo l'eliminazione di ciò che a noi non è utile o non è più utile, quindi i prodotti di scarto. E tra questi due estermi c'è un processore, quindi un elaboratore di dati che è collegato agli estremi, ovviamente, con delle vie. È importante il rifornimento, ma il rifornimento deve garantire la biodisponibilità. La biodisponibilità, quindi, è riferita ad un alimento, è riferita ad un nutraceutico, ad un integratore alimentare, ma anche ad un brano musicale. Provate a sentire musica con frequenza diversa. Se avete un accordatore, attualmente ci sono accordatori che possono essere modulati su tutte le frequenze, provate a sentire lo stesso brano a frequenza diversa e sentitelo risuonare nel vostro corpo. Risuona in zone diverse, ma ha degli effetti diversi. provate la 432, ma ce ne sono tantissime di particolari che sono già state anche esaminate. Esiste anche la musicoterapia, c'è anche l'insegnamento di musicoterapia. Quindi il rifornimento è fondamentale, ma deve essere adeguato. Quello giusto per l'orchestra. Siamo diversi. L'eschimese ha bisogno di un rifornimento diverso da quello di noi italiani. Chi vive nella zona equatoriale ha bisogno di un rifornimento diverso. E quasi tutti gli studi nutrizionali devono essere riferiti anche a questi aspetti personalizzati, individuali, territoriali, ambientali, culturali. L'elemento deve essere biodisponibile, cioè deve raggiungere il bersaglio, il target. Quindi non è importante soltanto la composizione, ma deve poter raggiungere l'epatocita, l'adipocita e così via in relazione alla struttura e alla fisiologia specifica. Poiché siamo simili, ma non identici. Chi si occupa di medicina vibrazionale, di medicina tradizionale, chi fa medicina cinese, medicina ayurvedica, sente il polso, sente delle cacofonie in genere, ma anche molte volte delle bellissime sinfonie, che risentono di tanti ambienti, anche della mano sulla spalla. Se io sento il polso ad una persona e un amico pone la mano sulla spalla di questa persona, il polso cambia. Ma anche se sento musica, anche se proietto un colore, anche se ascolto un odore, perché le porte anche di ingresso sono anche quelle sensoriali. E quindi la biodisponibilità che deve essere non soltanto specie specifica, dovrebbe essere individualizzata, ma non soltanto individualizzata a chi abbiamo di fronte nel nostro ambulatore, nel nostro studio, ma individualizzata anche alla fase, perché noi siamo ciclici, armonici, noi siamo in evoluzione. Molte volte purtroppo anche in involuzione, siamo in continua variazione. E questa legge bellissima dell'adattamento, qualche volta purtroppo ci vede questa legge perdenti, è fondamentale. Quindi più la capacità di adattare viene espressa, più il meccanismo procede. Per cui anche nella valutazione di un prodotto ci deve essere la biodisponibilità. I prodotti che possono essere assorbiti per via perlinguale hanno una biodisponibilità eccellente, a meno che io non abbia un problema di salivazione, una patologia autoimmune, uno sciogren, in cui io dispongo di un ambiente della cavità orale e quindi a livello salivare non del tutto pronto per avere un assorbimento idoneo. O ci può essere la necessità di un'infusione endovenosa, d'urgenza, perché mi permette di raggiungere il bersaglio in modalità ottimale. E quindi nella visione di insieme, nella biodisponibilità, nei vari livelli di salute e quindi di espressione di malattia, nell'arrivo anche da noi, anche nella nostra civiltà, anche nella nostra nazione, di esperienze di tipo biofisico che provengono da altri stati, ci si pone una domanda fondamentale, se ci si può avvicinare ad un approccio della salute con uno spettro più ampio. Questo spettro sicuramente sarà diverso nei prossimi anni, perché tutto è in transizione. Le apparecchiature sono frutto, sono creature degli esseri umani, quindi risentono della competenza dell'essere umano, che ovviamente man mano va perfezionandosi. Io lavoro anche con altri strumenti, ho una via che mi fa anche la dipometria che ho acquistato un anno fa, comincia a non essermi più sufficiente. ho bisogno di altre informazioni, perché il campo unificato, ci dovremmo muovere sempre nel campo unificato, che ormai è diventato ovviamente mondiale, manda nell'etere, quindi nello spazio di questo campo unificato, sempre più informazioni. Ovviamente da selezionare. Bene. Se abbiamo per cui un paziente che sicuramente viene, sia in condizione patologica, o per un'infiammazione, o per la conseguenza di un'infiammazione, e se questo paziente ovviamente ha già un quadro evidente, è ovvio che noi ci poniamo con una diagnostica che è quella già adottata negli anni, negli nostri anni, quindi semiotica, fisica, anamnesi, esami strumentali, esami di laboratorio, e così via. In realtà molte volte nell'incontro del paziente, mentre in passato era la soglia iatrotropica che motivava il paziente a rivolgersi al medico, quindi la comparsa del malessere, quindi la comparsa del malessere, il superamento della soglia iatrotropica che è molto soggettiva, che è molto sensibile, e c'è che è molto più resistente, anche sul dolore, per esempio. Ovviamente ci poneva poi a tutta una serie di valutazione, che è l'albero decisionale, che ovviamente poi ci portava alla terapia. Questo ormai, nella maggior parte dei casi, è stravolto. Quante volte capita di vedere un paziente che già ipotizza, o addirittura ha la certezza di una diagnosi, o addirittura ha già avviato l'assunzione di alimentazione secondo modelli più o meno di moda, ha letto dei libri, si è fatto un'idea, quindi non è più motivato. Molte volte viene perché vuole addirittura un parere. E questo ovviamente ci pone, anche dal punto di vista medico, in un problema di reset, anche dal punto di vista di comunicazione col paziente. Tutto si è modificato, ma perché è la velocità notevole. La vita è procedere, quindi il modificarsi è naturale, ma nei nostri tempi è eccessivamente veloce. e quindi compaiono dei nuovi agenti. Compaiono ovviamente anche nel quadro, anche semplicemente dal punto di vista nutrizionale, altri aspetti, aminoacidi, ma gli aminoacidi che assumo quali sono? Sono già quelli idrolizzati, idrolizzati come? Quali processi? A che temperature vengono sottoposti? Sono ossidati? Ma viene valutato il livello di ossidazione? antiossidanti, quali? Biodisponibilità del prodotto antiossidante, vitamine, quali? Naturali, estratte da? Acidi grassi, quali? Qual è la metodologia d'estrazione? Sono estratti con solventi o sono estratti con lipasi? Qual è l'impatto ecologico di ognuno di questi punti? GLA, S-Drive, il DGLA è estremamente difficile da reperirlo e trasformarlo in nutraceutico. GLA è più facile, quindi l'S-Drive ci indica GLA e piuttosto che non il DGLA perché da un punto di vista nutrizionale e nutraceutico è più facile individuare il supporto. E minerali? Minerali in quale forma? Inorganica o organica? Organicata. E poi noi siamo abituati molte volte a vedere separatamente questi ambiti, lavorano tutti in orchestra, tutti in orchestra, dove c'è un enzima che è una struttura proteica in quanto strutturato da aminoacidi, ci sono minerali che sono i catalizzatori, ci sono vitamine che sono i cofattori, ci sono antiossidanti che mantengono il livello di equilibrio redox e ci sono acidi grassi che fanno anche da comunicazione. È tutto nell'insieme. E quindi la domanda se noi riuscissimo ad avere sempre più su piani più sottili, sempre più con una visione più integrata, sempre più con delle metodiche al passo con le nuove evidenze, perché sono evidenze già pubblicate, io non le riporto, ma se entrate, non le ho ancora riportate, ma se entrate su internet, vedete l'asse terapia endovenosa, ci sono dei colleghi anche a Reggio Emilia, anche a Terni, che tranquillamente la eseguano. Se entrate su internet e leggete audio, psicofonologia, secondo Timotis c'è un materiale a non finire, c'è un centro d'avanguardia a Roma, quindi sono dati già acquisiti, già noti. E quindi ovviamente ci sono anche le interferenze che sono sicuramente interferenze determinate da impatto esterno, quindi frequenze elettromagnetiche e tossici. Tra le tossine quasi nessuno ne parla, le più gravi sono le etotossine. C'è poi il solo Gianluca Pantaleoni che se ne occupa, è stato il rettore dell'Università dell'Aquila, che conosco personalmente. Etotossine, ci sono pochissime pubblicazioni, sono tossine che si vanno ad accumulare nell'ambiente lipidico del nostro organismo, fegato, grasso, cervello, genitali e cambiano il comportamento verso di sé e verso gli altri. Se volessimo individuare il perché insorge una variazione dalla salute alla malattia, dovremmo andare a verificare un pannello infinito. elettromagnetismo, ma anche variazioni virali, micotiche, batteri, cacchi batteri, anche i virus sono cambiati. Faccio l'esempio sempre del Mediterraneo perché la mia residenza è ancora a Bari e la mia città sono nata lì e ho deciso di mantenere la residenza pur viaggiando in tante altre città che ringrazio per l'accoglienza che mi hanno fornito. Bene, nel Mediterraneo la temperatura è cambiata, il vulcano, lo stromboli sta alzando la temperatura, lo stromboli che alza la temperatura sta determinando un cambiamento nella fauna ma anche nella flora, ma anche nell'ambiente micotico, anche nell'ambiente batterico, stanno comparendo nuove forme che ovviamente essendo estremofile sono più abituate a temperature maggiori quindi tutto sta cambiando, tutto si sta resettando, quindi anche lo stesso esame metagenomico, anche un test di ricerca delle popolazioni micotico-batteriche va rivisto sia in un percorso integrato di valutazione del completo sia ovviamente alla luce di tutti i nuovi cambiamenti e come si raccolgono tutti questi dati? Come si riesce a far ripartire questa rete che rischia di ingolfarsi? Perché il nostro sistema che naturalmente dovrebbe essere di flusso aperto come il nostro essere umani ma anche quello del nostro ambiente anche della nostra terra comincia a essere ingolfato. Come va da voi la metropolitana? A Roma un disastro. Qui l'ho provata qualche volta in effetti vicino alla stazione c'è un po' di ingorgo per il resto va molto bene a Roma è un disastro ci sono delle stazioni ormai chiuse e quello è un sistema di flusso che avrebbe dovuto essere aperto ma non lo è più grandi problemi lo stesso accade nel nostro organismo il campo unificato le etotossine ci portano ad avere un atteggiamento egocentrico egoistico addirittura anche di disinteresse nei nostri confronti personali e nei nostri cari quindi dimentichiamo di essere noi stessi un campo unificato e anche il campo unificato in cui viviamo e quindi l'epigenetica siamo talmente carichi di fattori variabili e questi fattori variabili possono anche intervenire nell'espressione e quindi nella modulazione genetica anche gli stessi batteri producono microRNA e quindi possono scambiare informazioni ma anche le novità i nuovi cambiamenti batterici possono determinare tutta una serie di modulazioni quindi i nuovi distressor sono tantissimi e abbiamo sicuramente molti dati sui polimorfismi genetici ma non basta la genetica abbiamo sicuramente oggi come oggi la possibilità di individuare la resistenza farmaco ai farmaci possiamo capire perché dov'è il blocco ma non è sufficiente perché la farmacoresistenza deve andare poi ad interfacciarsi a quella che è la metabolomica intestinale dei farmaci per esempio se vengono somministrati per via orale cosa vuol dire tutti questi dati ci stanno indicando che dobbiamo riportarci all'intero che va benissimo sempre più essere super specializzati ma dobbiamo riportarci al campo unificato perché il nostro sistema di flusso altrimenti rischia di bloccarci quindi la possibilità di avere degli aspetti predittivi in quegli spazi della patogenesi che dicono le medicine tradizionali sono già presenti ma noi non ce ne eravamo resi conto perché non siamo entrati nel linguaggio del corpo e riusciamo ad entrare nel linguaggio del corpo man mano che ci avviciniamo a questi livelli quindi aspetti predittivi che possono già intervenire perché la malattia nasce già quando noi ci sentiamo bene in salute e può nascere anche molto tempo prima della sua manifestazione Cristina tre minuti sì sì quindi prevenzione e salute i vari settori che vedrete l'alimentazione amminoacidi vitamine minerali acidi grassi essenziali l'acido oleico non è un acido grasso essenziale interferenze di vario tipo varie frequenze elettromagnetiche l'interazione con ovviamente batteri virus parassiti resistenza a parassiti grandissimo problema se ne parla troppo poco ancora più della farmacoresistenza agli antibiotici e quindi antiossidanti questa valutazione è una interessantissima modalità di un approccio unificato armonico ad orchestra della biodisponibilità funzionale nel vivente a livello cellulare cioè non ci dice c'è tanto in quantità ci dice valuta perché qualcosa a livello funzionale nel vivente nella cellula relativamente a questi vari spettri sono spettri biofotonici perciò colorati risultano già sensibili il paziente può essere in perfetto benessere quindi non è un test quantitativo ma è un test estremamente interessante che oggi come oggi ci dà le risposte a tutte le domande che io mi sono posta nel corso del tempo per cui quando mi sei presentato il test ho iniziato a fare le verifiche nella terza pagina vedete che c'è appunto l'insieme dei vari settori ci sono dei campi interessanti per esempio emozioni sonno flora batterica intestinale e poi gli alimenti a cui si risulta sensibili questa è un'altra tipologia quindi ci permette anche nell'entrare nel dialogo del paziente in modo diverso e ovviamente ci consente anche di poi fornire delle regole di stile di vita di alimentazione ma anche di pensare a nuovi prospetti diagnostici estremamente interessanti quindi l'S-Drive non è l'indicatore della malattia per chi va bene per tutti al di là della prevenzione per tutti perché ci dice qual è la sinfonia del nostro organismo in vivo e quindi le varie le varie modalità entrando in dialogo con l'organismo per esempio il paziente può avere una micosi ma l'S-Drive ci segnala metalli pesanti e quindi andiamo poi ad approfondire delle indagini per capire se c'è anche solo un'ipersensibilità che non è allergia non è intelloranza o se c'è anche veramente un sovraccarico quindi passiamo poi a dei test quantitativi o per esempio a me capita spesso di vedere pazienti che mi risultano l'S-Drive con un segnalato acido folico dosso nel sangue l'acido folico ho bisogno di fare altri test per capire a livello cellulare quantitativo dove la valutazione molte volte è che l'acido folico che viene assunto sia come alimento sia come nutraceutico in realtà non ha la biodisponibilità e quindi non arriva a destinazione mantiene nel sangue a un certo livello ma non arriva poi là dove deve svolgere la sua azione quindi diventa estremamente interessante anche per quanto riguarda gli antiossidanti come per esempio il sulforafano che è estremamente interessante proprio per l'etotossina per l'eliminazione pur avendo ovviamente una una controindicazione ad alti dosaggi nei pazienti con patologia tiroidea ma è anche utile nei sovraccarichi ormonali e così via quindi anche per esempio casi di segnalazione degli idrocarburi questa positività così ampia non ci sta dicendo che il paziente quantitativamente sta stracarico di idrocarburi ci sta dicendo vali oltre comprendere oltre c'è un settore di disturbo che può essere solo funzionale di persensibilità o può essere anche ovviamente quantitativo quindi è da valutare per cui il test risulta estremamente interessante qua per esempio segnalati EPA e DHA c'era una problematica non primitiva di lipidomica perché tutti i settori devono essere interpretati nell'insieme nessun settore può essere interpretato a sé stante si rischia di andare molto lontano questa è una patologia legata ad un problema di dismenorrea e quindi diventa estremamente necessario ed estremamente utile quindi come test proprio nella come tastare il polso del paziente sentiamo il polso del paziente e cerchiamo di comprendere quale è la sua musica e quindi cerchiamo di entrare in dialogo con il suo organismo e sicuramente questo test è il primo di una serie apre sicuramente una lunghissima serie di test biofisici digitalici che saranno il futuro perché non sono invasivi perché permettono di entrare in vivo nell'armonia quindi nell'orchestra dell'organismo e di darci dei dati funzionali veramente predittivi e molto significativi grazie buon uso grazie 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 Grazie.